Pensiero del giorno. Chiedo che i miei desideri vengono esauditi. Confesso i miei desideri più profondi a me stesso e agli altri. Per me è sicuro chiedere ciò che voglio e riceverlo. Chiedi quello che vuoi. Avere dei sogni fa parte del tuo processo di crescita spirituale. Non c'è niente di male nel desiderare ciò che non si ha. Il processo di manifestazione ti permette di applicare la tua capacità creativa che ti è stata donata da Dio. Tutto ciò che hai nella tua vita è un prodotto dei tuoi desideri, inclusi gli elementi apparentemente indesiderabili. Te lo segnaliamo non per farti sentire in colpa, ma per rendere onore al tuo incredibile potere di attrarre ciò che trattieni nella coscienza. Oggi chiedi quello che vuoi veramente. Concediti di esagerare nel chiedere e nell'aspettarti che i tuoi veri desideri siano soddisfatti. Chiedi a Dio, a noi angeli e alle altre persone, le cose che desideri. Sarai piacevolmente sorpreso dal fatto che l'universo ti dica sempre di sì e tutto quello che devi fare è chiedere.